Siamo alla sesta edizione di Scambio in Luce, un progetto nato nel 2013 proprio grazie al Centro Servizi per il Volontariato. Il progetto prevede che vengano realizzate all'interno delle carceri di Torino, di Assi e Alessandria, dei laboratori di espressività artistica che coinvolgono le persone detenute. Dopodiché queste lampade vengono portate alla società esterna che viene coinvolta in un progetto che dura solitamente il periodo natalizio, da novembre alla fine delle feste, verso gennaio. Quest'anno il progetto ha deciso di coinvolgere anche tutte le case del quartiere di Torino, quindi le otto case delle circoscrizioni. L'idea è quella di creare un legame tra le persone all'interno del carcere e la società all'esterno, in modo che si provi a ricostruire forse una relazione interrotta. Questo è l'obiettivo principale, illuminare la città di cultura, di relazioni, di umanità in un certo senso.